Ci troviamo sulle rive del Tevere, intorno all'VIII secolo a.C. Come potete vedere, quella città caotica ma piena di storia che noi conosciamo non c'è. C'è un fiume, vediamo l'isola Tiberina, c'è un pastore con il suo gregge e se ci giriamo scorgiamo dei colli. Roma, prima della sua nascita, era così. Sì, una pianura che periodicamente veniva lagata dal Tevere, dove i pastori portavano le loro gregge e dei colli sui quali sorgevano villaggi. Il Tevere era un fiume navigabile, diremo oggi un'autostrada per il commercio, con barche e navi sempre in movimento. L'isola Tiberina, al centro del Tevere, era l'approdo ideale di queste barche per scaricare merci e fare commercio. Questo è quello che ci dicono gli studi archeologici e storici sulla nascita di Roma. Ma Roma, come vi dicevo, è importante oggi per la cultura che ci ha lasciato. Quindi, per un momento, abbandoniamo la storia e dedichiamoci al mito della nascita dell'Urbe. Tutto ha avuto inizio qui, nel Tempio delle Vestali. La scena che vediamo è il momento in cui Rea Silvia sta per essere ammessa fra le sacerdotesse di Vesta. Rea Silvia è la figlia del legittimo re di Albalonga, numitore, spodestato dal fratello Amulio. Il nuovo re, Amulio l'usurpatore, ha voluto che Rea Silvia diventasse una vestale per via del voto di castità che le sacerdotesse dovevano rispettare. Era sicuro, quindi, che Rea non avrebbe avuto eredi, così poteva regnare tranquillamente sulla città. Ma non aveva fatto i conti né col Fato né con il Dio Marte. Dobbiamo chiederci perché i Romani di Sana Pianta crearono questo mito. Non era più semplice riportare la storia così come si era svolta? Per una città qualsiasi forse sì, ma una città come Roma, l'urbe caput mundi, non poteva essere cantata così. I suoi fondatori dovevano essere degli eroi, uomini di stirpe regale, addirittura figli di un Dio e del Dio della guerra. E poi, una città così importante deve essere stata voluta dallo stesso Fato. Un'entità divina al di sopra degli dèi. Era propaganda sia nei confronti degli stessi Romani, sia per i popoli che Roma sottometteva. È inutile opporsi al dominio di Roma. È lo stesso Fato che ha voluto l'urbe a capo del mondo.